Il Presidente Nazionale della Coldiretti Ettore Prandini, quello regionale Battista Qualbu, insieme al Presidente Nazionale del Codacons Carlo Rienzi, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Oristano. I reati contestati sono diffamazione, calunnia, estigazione a delinquere e violenza privata. All'origine dell'inchiesta rileva una nota al Codacons Nazionale, una denuncia presentata dal Presidente del Consorzio per la tutela del pecorino romano Salvatore Palitta, a seguito delle dichiarazioni fatte a mezzo stampa dai responsabili della Coldiretti e del Codacons nel corso dell'avvertenza latte e in particolare sulla questione del prezzo del prodotto. La vicenda nasce da un esposto presentato dal Codacons all'Antitrust e alle procure di Nuore Roma, nel quale si riportava la denuncia di Coldiretti Sardegna sui prezzi del latte pagati agli allevatori sardi, sottolinea il Codacons. Non ci faremo intimidire dalle denunce del Consorzio e continueremo a combattere in ogni sede nell'interesse degli allevatori e dei consumatori che hanno diritto ad una filiera equa e a prezzi che corrispondano al mercato, sottolinea l'Associazione dei consumatori. Dalla Coldiretti Sardegna fanno sapere che all'Associazione non è arrivata nessuna notifica ufficiale sull'avvio di un procedimento giudiziario scaturito dall'esposto del Presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano.